L'immagine di Liliana Segre, bambina, in braccio a suo papà Alberto che la sostiene, emerge già da sola, calda e vincente sullo sfondo di dolore. Questa opera sarà l'immagine che i ragazzi vedranno prima di entrare nelle classi. Sarà sicuramente un'immagine che susciterà la loro curiosità e ci consentirà di descrivere non solo la figura di Liliana, ma la sua battaglia per la memoria contro il razzismo, contro l'indifferenza, contro l'odio. Quelli che si possono chiamare uomini e donne, quelle che sanno fare la differenza, sceglieranno sempre un ponte che unisca gli uni agli altri, ma che non assomigli mai a quelli che fanno muri e non ponti. Questo è un murale che è sopra un muro, ma che diventi sempre nel futuro un ponte. Grazie.